Chiusura straordinaria del centro commerciale Limbecker Platz di Essen in Germania. Sabato mattina la polizia ha fatto evacuare gli addetti alle pulizie, poi ha impedito che chiunque potesse entrare. La decisione è stata presa dopo che l'intelligence aveva segnalato la possibilità di un attentato nel mall, uno dei più grandi della Germania. Ore dopo la polizia è intervenuta in un internet caffè di Hoberhausen e ha fermato un uomo che adesso dovrà essere interrogato.